a procurare alla magistratura le prove per poter reprimere questo fenomeno, ma è importante che le notizie ci vengano immediatamente portate dal cittadino, che deve trovare il coraggio di farlo. Noi cercheremo di evitare il più possibile i maxiprocessi, perché è importante che l'imputato sia giudicato in tempi ragionevolmente brevi, ce lo impone la comunità europea, ce le impongono regole di civiltà, ma giudicare l'imputato in tempi ragionevolmente brevi significa anche ottenere delle pronunce giudiziarie che reprimono con la definitività della sentenza i fenomeni criminosi. Quindi dobbiamo dare un'accelerata all'attività di repressione dei fenomeni criminosi. Allora, non a caso abbiamo unito le due dichiarazioni del procuratore Drago, perché c'è da un lato l'appello ai cittadini, dovete avere il coraggio di denunciare, dall'altro però ci sono dei tempi della giustizia che non sempre garantiscono il cittadino. Come si esce da questo imbuto? È il cane che si muore della coda. È evidente che se io denuncio i miei aguzzini, che se denuncio quelli che mi sono venuti a chiedere il pizzo, o quelli che mi tengono sotto usura, li denuncio e poi dopo sei mesi li vedo liberi e dopo un anno li vedo liberi per la prescrizione del reato. Un anno, insomma, ovviamente non è in un anno che si prescrive un reato del genere. Però comunque, insomma, se i tempi della giustizia sono così sfasati rispetto ai tempi della necessità della sicurezza, è evidente che tutto questo forse può disincentivare alla condanna. E quindi c'è un problema che va risolto a livello normativo. I cittadini possono farci ben poco. Poi c'è ovviamente il senso civico che ciascuno di noi deve avere. Denunciare non solo conviene, perché alla fine conviene, perché nella rappresentazione della forza, dell'intimidazione, che è uno dei verbi della criminalità, la denuncia è un'uguale affermazione di coraggio. e quindi già ci si sottrae al rapporto quasi psicologico, quasi psicoanalitico tra vittima e caranefici. Ma indipendentemente da questo, se convenga o meno, la denuncia o la collaborazione dei cittadini dovrebbe essere un fatto acquisito, dovrebbe essere la normalità. Cioè dovremmo tutti stare dalla parte della giustizia rispetto a quelli che stanno dalla parte dell'illegalità. Talvolta questo sfugge. È un atteggiamento forse un po' meridionale, ma siccome Bari ha da sempre dimostrato di avere degli anticorpi rispetto all'aggressione criminale ben diversi da quelli che troviamo in Sicilia o in Calabria, e allora la mancata collaborazione è forse un estremo atto, forse anche di sciatteria, di individualismo, non credo che sia un vero problema di paura. Restiamo in qualche modo in tema di sicurezza, perché oggi c'è stata la protesta dei vigili urbani che sono scesi in piazza perché chiedono un riconoscimento normativo e soprattutto non vogliono discriminazioni della divisa. E si chiedono se siamo poliziotti o impiegati. In effetti è stato chiesto, soprattutto in questi ultimi mesi, un grande sforzo alla Polizia Municipale, perché si chiede soprattutto al Sindaco di poter intervenire sull'emergenza, sulla richiesta di sicurezza che c'è da parte dei cittadini, però mi sembra che forse sia arrivato il momento anche di recuperare il ruolo della Polizia Municipale e quello delle forze dell'ordine, soprattutto per la situazione che stiamo vivendo oggi. Non si può relegare il corpo di Polizia Municipale soltanto effettuare multe o fare controlli del traffico. Questo è giusto. Io so che sto per dire qualcosa di impopolare, almeno presso i vigili urbani, ma siccome noi abbiamo già dei corpi di Polizia Giudiziaria o la Polizia, abbiamo Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, anzi credo che l'Italia abbia più corpi quanti non ce ne siano in altri paesi. Il problema sono gli uomini in effetti, perché le risorse mancano al di là dell'istituzione dei corpi. I vigili urbani dovrebbero avere un altro tipo di ruolo. Credo che la richiesta dei vigili urbani sia da una parte legittima, ma dall'altra anche forse un po' estremamente sindacalizzata. Mi immagino un vigile urbano armato, per quanto possa essere una persona di grandissima temperanza, veniva alle mani con un automobilista particolarmente inferocito per una multa e quindi già scatta l'ortaggio a pubblico ufficiale. Cioè sarebbe una cosa molto molto complessa. Allora o noi cambiamo completamente il corpo di Polizia Municipale, ne facciamo altro, oppure non possiamo a questo corpo, con questa norma e con questa legge, dare lo status di Poliziotto come un Poliziotto della Questura. Ripeto, presumo di essere impopolare e poi sono i vigili urbani, ma non è così che si porta avanti una modifica di legge del genere. Allora, su questo tema torneremo, lo faremo nell'ultimo spazio di questo telegiornale dalle 20.45 con il comandante della Polizia Municipale, Stefano Donati, ma noi per chiudere con Carmela Formicola vogliamo affrontare anche un altro tema. Oggi è nato il portale della salute, il pronto soccorso diventa portata di click, abbiamo titolato nei nostri titoli, perché arriva una raccolta di informazioni online che ti permettono in tempo reale di capire quali sono i tempi d'attesa sulla base dei codici nei vari pronto soccorso regionali. Possiamo definirla una piccola goccia nel mare in quel processo di informatizzazione della sanità, ma sulla sanità si gioca la più grande partita della regione e fino ad ora i vari governatori l'hanno vinta o l'hanno persa. Sulla sanità credo abbiano sempre perso un po' tutti, perché purtroppo la sanità è uno di quei settori, forse per l'eredità di gestioni maldeste, maldeste è uno di quei settori sui quali certo non si qualifica un paese civile. Noi ogni giorno, noi come Gazzetta del Mezzogiorno, ma poi assumo che a Telebari succeda la stessa cosa, ogni giorno la nostra redazione è invasa da mail o comunque subissata le telefonate di qualcuno che ha prenotato la visita e gliel'hanno fissata dopo un anno, dopo otto mesi. Insomma della sanità pubblica sono sempre scontenti tutti. Io però comunque presumo che negli ultimi dieci anni la sanità regionale abbia comunque operato grande trasparenza, almeno quello. Negli ultimi anni le cose sono migliorate, almeno dal punto di vista delle intenzioni. Quindi credo che questa sia una goccia nel mare, come dici tu, ma sia un piccolo tassello che dobbiamo iniziare a mettere per avere una sanità da parte civile. Almeno sul futuro governo regionale bisognerà scegliere bene l'assessore, perché per varie motivazioni sono cambiati sei in questa legislatura, e questo non fa bene. L'assessore regionale alla sanità è sempre una porzione che scotta. Speriamo che nasca sotto una buona stella, meno quello del futuro governo regionale. Lo auguriamo al futuro governatore. Infatti. Allora siamo in chiusura, ringrazio il capocronista della Gazzetta del Mezzogiorno, Carmela Formicola, per essere stata con noi, anche scrittrice. Vale la pena di ricordarlo. Grazie. Vogliamo ricordare il titolo del tuo libro? Il mio ultimo libro si chiama Suite per archi e voto di scambio. Edito da Florestano Edizioni. Un manuale per i politici? È un manuale di fantapolitica, ma credo che ogni politico dovrebbe leggerlo. C'è già un altro in programma? Un altro in programma dovrebbe essere il seguito del mio primo romanzo, quando suonavo il Gioezza, il seguito che parlerà di flamenco, parlerà di una serie di cose. Avremo modo di parlarne. Grazie, grazie. Almeno noi adesso ci fermiamo. Un po' di notizie, un po' di pubblicità, scusate, poi torniamo con le notizie. Tra poco.